ma che cazzo fa non averlo preso comunque non ho riserve la cosa è meglio essere lì il padre da un nuovo animo a che cazzo sta succedendo ma il bello che alcuni tasti funzionano e perché non va ma che cazzo ora gatti non posso filmarmi ma questa cosa non era mai successa c'è va solo a spegnere l'accendere il pad i don't know seriamente è la prima volta è la prima volta, è la prima volta che qualcosa di simile sta succedendo l'unico pulsante funzionare è R2 posso solo fare questo io non ci voglio credere io non ci voglio credere io non so più cosa dire boh, è un segno del destino facciamo la clip no, io non boh non boh è la prima volta che ha avuto avuto la prima volta che ha avuto avuto questo è il ragazzo è un problema ... ... ... ... ... ... ... ... It's so beautiful... I'm serious, I don't know what is happening, this game so... Seriously, what's the problem right now? I can't.. Come on, come on, come on Fuck this game